Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Sembrano esserci le novità per quanto riguarda le decisioni dei lavori del Consiglio Comunale perché i risparmi del taglio ai gettoni di presenza potrebbero essere destinati alle scuole. Vediamo in che termini. I risparmi realizzati con la nuova organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale saranno destinati alla manutenzione scolastica. La soluzione è prospettata nelle scorse settimane e comincia a prendere corpo grazie alla decisione presa dalla conferenza dei capigruppo di convocare i rappresentanti degli istituti comprensivi per un confronto. La riunione si terrà venerdì prossimo 24 aprile alle 12. La conferenza era stata convocata dal presidente Leone Sullo che nei giorni in cui si completava l'iter sulla riforma delle commissioni consigliari aveva ricevuto una lettera dai presidenti dei consigli d'istituto. Alla luce delle intenzioni da voi manifestate sul possibile taglio del gettone di presenza si leggeva nella missiva chiediamo di voler considerare l'opportunità di destinare al settore dell'edilizia scolastica la somma accumulata. La richiesta è stata valutata positivamente dai capigruppo che hanno deciso di incontrare i rappresentanti scolastici per un approfondimento. ricevuta la lettera spiega ancora il presidente Sullo ho avviato i contatti informali con i presidenti dei consigli d'istituto per preparare la riunione e definire con i capigruppo un percorso condiviso. La disponibilità affinché si destinino alle scuole i tagli dei gettoni dei consiglieri è unanime, ragione per cui passiamo alla fase operativa. Incontrate le scuole sarà compito dei capogruppo, conclude ancora il presidente Sullo, coinvolgere i consiglieri comunali per mettere a punto un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione. Poi toccherà agli uffici rendere i soldi disponibili per le manutenzioni. Porteremo avanti questo impegno nell'interesse dei nostri ragazzi che hanno il diritto di studiare in strutture dignitose e funzionali e per continuare a meritare la fiducia dei siracusani. Mattinata di protesta, quella di oggi per quanto riguarda il percorso Catania-Ragusa, un presidio nella zona dell'ospedale di Lentini. Partito oggi il presidio all'altezza della rotonda nei pressi del nuovo ospedale di Lentini, poi l'assemblea nell'aula consigliare dello stesso comune. Durante il loro intervento i segretari generali di Fene al Will, Filca Cisle, Fillea CGL, Severina Corallo, Paolo Gallo e Domenico Bellinvia hanno detto basta a questa vicenda che si consuma sulla pelle dei lavoratori e soprattutto dei cittadini siciliani coinvolti. Non ci bastano le rassicurazioni affidate ai portavoce o ai messaggeri in missione, hanno fermato ancora il governo Esca dall'equivoco e confermi senza alcun indugio il progetto per realizzare l'arteria stradale che collegherà Catania-Ragusa coinvolgendo ben tre province del sud-est siciliano. Abbiamo sempre sostenuto, hanno aggiunto i tre segretari, che questo territorio può guardare al futuro soltanto attraverso le infrastrutture e una viabilità che garantisca collegamenti veloci e moderni. La Ragusa-Catania questo può garantire. Chiediamo quindi al governo di confermare il finanziamento. Si registra soltanto dopo cinque mesi dalla firma della Convenzione, proseguono ancora i sindacati di categoria, la totale assenza di un solo atto che possa far pensare, se non all'apertura dei cantieri, almeno allo sblocco dell'iter esecutivo. Per tutto questo, hanno concluso Corallo, Gallo e Benlinvia, chiediamo alla politica siciliana uno scatto d'orgoglio perché in tempi rapidissimi il governo nazionale definisca l'iter e individui il finanziamento di propria pertinenza. Vicenda Beleni alla procura di Siracusa, c'è una decisione del CSM che ha prosciolto da tutte le accuse il sostituto procuratore Roberto Campisi. Il procuratore Campisi non avrebbe commesso alcuna irregolarità per la vicenda relativa all'iscrizione al registro degli indagati due calciatori del Catania Calcio, per la quale finì sotto processo insieme al sostituto Musco. Infatti la commissione disciplinare ha prosciolto da tutte le accuse Roberto Campisi. Era una sentenza attesa al magistrato siracusano che ha sempre sostenuto la propria estranetà ai fatti che gli sono stati contestati. Campisi potrà adesso vantare il rientro a Catania e la poltrona di procuratore, aggiunto vicario, vale a dire, del vice del procuratore Giovanni Salvi, posto attualmente vacante. Roberto Campisi fu coinvolto nell'inchiesta coordinata alla procura della Repubblica di Messina relativamente alla vicenda cosiddetta Veleni alla procura di Siracusa. L'alto magistrato siracusano fu sospeso proprio a seguito di queste vicende e assegnato a titolo provvisorio alla procura di Siracusa. Vinse sia il ricorso al Tar del Lazio sia quello successivo al Consiglio di Stato. La segnalazione del magistrato Scavo, che ambiva la stessa poltrona del Palazzo Catanese, costrinse l'ex procuratore capo della Repubblica ad ottenere un giudizio di ottemperanza che fu sospeso proprio per consentire di diradare ogni nuvola sul capo del magistrato. Non si tratta di un passaggio automatico, ma come accaduto per Maurizio Musco, anche per il procuratore Campisi si attende il provvedimento del CSM per la riassegnazione presso la procura di Catania. Intanto è fissato per il 28 aprile. La cronaca adesso è l'intervento dei carabinieri di Siracusa che in due occasioni arrestano quattro persone per rissa e nell'altro caso per furto. Tre cittadini dello Sri Lanka da anni residenti a Siracusa, di età comprese tra i 41 e i 47 anni, tutti incensurati con regolari professioni di badante, cuoco e pasticcere, sono stati i protagonisti di una rissa nei pressi di Viale Regina Margherita. I tre per futili motivi hanno cominciato a picchiarsi violentemente in mezzo alla strada, zuffandosi sul marciapiede con calci e pugni, attirando l'attenzione di molti passanti. Tra questi anche un carabiniere in servizio presso la stazione di Ortigia che stava rientrando al comando. Il militare dell'arma è quindi sceso dal mezzo ed è intervenuto per separare i tre, richiedendo al contempo l'intervento dei colleghi. Supporto è stato dato anche dalla Polizia Municipale di Siracusa. Al termine delle formalità di grito, i tre sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Nella circostanza hanno riportato cinque giorni di prognosi per una ferita all'acero contusa alla mano. A un altro soggetto coinvolto nella rissa sono stati riscontrati diversi traumi alla spalla e al ginocchio, guaribili in 15 giorni. Illesa, invece, la terza persona coinvolta. I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato il catanese Salvatore Saltino, 44enne. L'uomo, insieme ad un'altra persona ancora in corso di identificazione, si è introdotto all'interno di una ditta di Priolo Gargallo, incontrata a Balordo ed ha trafugato alla motrice di un camion Mercedes di ultima generazione, usata anche per uscire dalla ditta, sfondando il cancello automatico di ingresso. Sono stati però scoperti dalla vigilanza privata che ha allertato i militari dell'arma. I presunti ladri sono quindi fuggiti, terminando la propria corsa contro un muretto divisorio in cemento armato presente al lato della carreggiata. Nella circostanza, il complice è riuscito a fuggire per le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce, mentre l'arrestato è stato rintracciato dai carabinieri. L'uomo non ha potuto proseguire la fuga a piedi poiché durante la corsa ha riportato una frattura al ginocchio destro. Per questo motivo è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove rimane piantonato dai militari dell'arma in attesa della direttissima. Il danno cagionato alla ditta, non coperto da assicurazione, monterebbe a 20.000 euro circa. E ancora a cronaca due persone, un 37enne e un 24enne denunciati dai carabinieri a Noto per ricettazione, un controllo dell'abitazione delle due persone. Qui è stato trovato del materiale che presumibilmente potrebbe essere originato da furti, lavatrici, televisori e quant'altro congelatori, e barbecue. Per questo le due persone denunciate per furto e ricettazione. Andiamo adesso invece a Palazzolo, dove i militari della stazione dei carabinieri hanno arrestato un uomo perché nascondeva in casa dosi di cocaina. I militari della stazione carabinieri di Palazzolo hanno tratto in arresto Santo Nigro di 44 anni, poiché a seguito di perquisizione personale domiciliare è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi già confezionate e pronte per essere cedute, occultate in un mobiletto all'interno del bagno. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Nel corso del medesimo servizio è stata disposta la sospensione dell'attività lavorativa di un esercizio per la somministrazione di cibi e bevande nel comune di Palazzolo a Creide. Alla titolare del citato esercizio commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 12 mila euro poiché è stato constatato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, pertanto, dovrà regolarizzare le posizioni lavorative dei dipendenti ed esibire la documentazione richiesta al fine di riprendere regolarmente l'attività. Infine sono state elevate otto contravvenzioni al codice della strada in quanto due veicoli, tre ciclomotori ed un motociclo sottoposti a controllo di polizia sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa e pertanto sottoposti a sequestro amministrativo. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, vi aspettiamo per la seconda parte, a tra poco. Entra nel mondo Gemar Da Gemar arrivano i sottoprezzi Pasta di semola Poiatti da 1 kg a 75 centesimi Lattebrio a 55 centesimi Galbanino 930 grammi 5,89 euro Mozzarella Latterie Riunite 100 grammi a 55 centesimi Cerca il punto vendita più vicino a te Supermercati Gemar Da Gemar provi sempre il risultamento di prodotti e la sicurezza della migliore qualità al prezzo più basso Gemar ti invita alla prova Su di me puoi contare, stanne sicuro Al buio di notte, nel freddo del mattino Portami su strada, c'è strada Portami fuori e stanne sicuro Non chiederti dove, non chiederti come Facciamoci un giro lontano da tutto Facciamoci un giro che duri una vita Fa il pieno di amici, la famiglia al completo Su di me puoi contare, stanne sicuro Gamayaris, benzina, diesel e hybrid a 150 euro al mese E anche se puoi restituirla quando vuoi Fidati, non vorrai farlo Toyota, conta su di me Autosport, concessionaria Toyota Contrada Tarja, Siracusa Autosport e anche Opel Il 18 aprile apre a Siracusa AVR Megastore In contrada a spalla, abbigliamento, casalinghi, scarpe, giocattoli e ferramenta Nuova apertura sabato 18 aprile Parco commerciale Belvedere, città Giardino, Melilli E fino al 24 aprile, sconto del 20% su tutti gli articoli Da Scavolini Store Siracusa È arrivato il momento che stavi aspettando Arredare la tua casa con tutta la qualità Scavolini Acquista una cucina e living da noi Avrai la parete attrezzata a metà prezzo e la cucina interessi zero Scavolini Store Siracusa Consulenza specializzata e progetti personalizzati su misura per te Perché rinunciare alla qualità? Scavolini, living, bagno, cucina Vieni a trovarci in Viale Scala Greca 381 a Siracusa Fermati nei bar dove vedi questo marchio Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale Una petizione per chiedere che il teatro comunale Siracusa Venga intitolato al più famoso dei Gargallo Ma anche che le maestranze per i lavori Per portare a termine la ristrutturazione Siano locali La raccolta firme questa mattina in largo 25 luglio Una delle grandi opere che sembrava essere incompiuta Poi nel tempo il teatro comunale ha avuto comunque dei lavori interni Rimessa a nuovo, mancano ancora alcune cose Nella sua struttura artistica è completata Manca poco secondo l'amministrazione degli aggiustamenti Voi state invece raccogliendo delle firme per chiedere cosa? Per chiedere che sia intitolato al marchese Maria Tommaso Cagallo Un uomo che oltre ad essere fondatore dell'INDA Istituto Nazionale del Drammantico E' stato quello che per prima ha pensato al teatro comunale Come un palazzo chiuso dove si potesse fare una cultura Donando il palazzo dei principi della cattolica Per fare una pietra ancolare della cultura siracusana a coperto Oltretutto è stato anche sindaco di Siracusa Subito dopo la guerra Per cui noi chiediamo che venga titolato Noi di alleanza sociale Chiediamo che venga titolato a questo grande personaggio siracusano Anche se lui non era nato a Siracusa ma era nato a Firenze Ma era più siracusano da Tommaso che fiorentino Per cui ad attavoce noi chiediamo che venga aperto il teatro comunale Perché il teatro comunale non è soltanto cultura Ma è anche economia E' economia dell'indotto E parliamo non soltanto di attori, registri, compasse Ma soprattutto di alberghi, ristoranti, bar, pizzerie Di gente che lavora all'interno come elettricisti, muratori Salte, commesse Quindi c'è un indotto economico Che va al di là dell'aspetto soltanto culturale della città di Siracusa Quindi chiediamo fortemente che sia aperto il teatro comunale Ma ricordiamo al sindaco che non Che è quello che ha detto alla striscia novice Cioè che lo apriva entro il mese di aprile Ma forse si è dimenticato l'anno Parliamo adesso di un altro genere di teatro Parliamo di teatro comico, di teatro dialettale Il senso dello spettacolo Amore Rusticano Diretto d'Enzo Firullo che noi abbiamo ascoltato Stiamo vedendo le immagini della commedia Andata in scena al Multisala Planet di Siracusa Che ha visto protagonista la compagnia comica Risate e grande coinvolgimento del pubblico Devo dire che il pubblico ci ha veramente soddisfatti Perché c'era una sala quasi piena E quindi siamo molto soddisfatti Lo spettacolo è stato apprezzatissimo A quanto pare perché sono arrivate notizie Da tutte le parti Veramente di apprezzamento Io ringrazio il pubblico Ringrazio voi Ringrazio questa ditta di Costa Superstore Che addirittura ci ha dato una mano E' una ditta di Caltanissetta La cosa strana è questa Cioè a me è bastato solo un contatto E quelli si sono messi a disposizione Questa cosa mi ha fatto piacere Però mi ha fatto pensare Perché a Siracusa ce ne sono tante Ditte che ci potrebbero dare una mano Però insomma la cosa è molto molto relativa Noi a Siracusa abbiamo un grande problema Che è quello di non avere un teatro a disposizione Mi spiego meglio E' chiaro che il teatro Multisala Planetor Vax Vasquez E' a disposizione Ma è costosissimo Guardate vi faccio solo un esempio Che è lo stesso costo che abbiamo qui Al teatro Multisala con 580 posti E' lo stesso costo che c'è al Metropolitano di Catania Che è a 1600 posti Per cui faccio un appello a tutte le persone di buona volontà Noi saremmo anche disposti da soli Se avessimo una disposizione in un locale A ristrutturarcelo noi a spese nostre Perché non è possibile Continuare così Dovremmo Saremmo costretti quasi a chiudere Ma non mi chiediamo di attaccare Ma Gizutano Non mi faccio sti cosi Io sogno una femmina onesta Ma che sogno stasera No Non ti dici Ma Gizutano Poi quando ne maritiamo Ce ne lugno 100 Per anni 1 ore 99 Quando ne maritiamo E' più bello Ce ne lugno 100 Quando ne maritiamo Quando ne maritiamo Quando ne maritiamo Primo congresso provinciale La categoria dei periti assicurativi di Siracusa A partire da oggi alle 15.30 All'auditorium del centro servizi Nella zona artigianale di Floridia Parliamo adesso di sport La pallannuoto ormai a Siracusa È una tradizione sportiva consolidata Sono due le squadre di punta In altissima serie In A1 a livello nazionale Ma la pallannuoto è anche Scuola di correttezza Come spiega l'olimpionico Calcaterra Oggi a Siracusa La pallannuoto come scuola di vita Insegnamento di correttezza e sportività La piscina di Siracusa Vivaio di campioni Con due squadre ai massimi livelli nazionali Ne abbiamo parlato Con un esperto e campione Se la pallannuoto fosse un grande Lo è, un grande corpo sportivo Stasso su tutta la penisola La testa Si può dire che sia anche qui a Siracusa Con delle squadre importanti Qual è lo stato della pallannuoto? Sinterizzando A livello giovanile direi che in Sicilia Lo stato è ottimo Perché questo è il mio terzo arrivo Qua in Sicilia Sono stato due volte a Catania Una volta a Siracusa E l'affluenza di ragazzi è enorme Quindi per quello che sto facendo io Quindi sono molto contento Poi a Siracusa c'è una tradizione storica C'è una nuova tradizione che è il Sette Scogli C'è l'Ortigia Quindi ci sono tanti ragazzi che arrivano da vicino Quindi direi che a livello giovanile è ottimo Poi adesso non conosco più A livello di prime squadre Però sicuramente Ecco, oggi c'è il derby È importante Quindi diciamo che in Sicilia La pallannuoto è sempre stata seguita Un esperto, un campione Comunque credo la prima cosa che noti È che in una realtà importante Come quella di Siracusa In una piscina del genere Manchi magari una copertura A questo non so dirvelo Perché comunque non si tratta di piscina del nord Quindi qua c'è sempre stato un clima ottimo La piscina è sempre stata scoperta Quindi io mi ricordo Ho giocato da quando avevo 12 anni Ho fatto una marea di partite in questa piscina Ho sempre fatto all'aperto E mai avuto problemi anche l'inverno Quindi sì, sicuramente Se ci fosse un impianto coperto Sarebbe meglio Ma comunque questo è un impianto splendido Quindi si può sopperire anche tenendolo all'aperto Bene è tutto Il Teggiornale si conclude così Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi Grazie a tutti Grazie a tutti